You can't touch this You can't touch this Riparte l'azione con Luca De Bellis Che tenta la penetrazione ma viene fermato Da buon aiuti, adesso riparte l'azione di Bari con Bona Che cerca Morena ma perde palla Si rimane, intercetta e va a schiacciare Per il sessantunesimo punto di Sant'Arcanto Mancano 13 secondi alla fine di questo primo quarto di gioco E in attacco il Sant'Arcangelo con il suo play Rivali Rivali che si porta sotto canestro e agevola il suo lungo Ancelotti che segna Ricapitoliamo il punteggio 62 Cusbari, 64 Sant'Arcanto La palla adesso nelle mani di Rivali Rivali cerca l'azione personale E fa la magia Rivali fa una magia da terra Praticamente segna due punti E adesso è il Cusbari Nella metà campo del Sant'Arcangelo Con la sua azione di attacco 13 secondi Per concludere Cardillo ci prova ma viene bloccato E intanto c'è proprio il numero 9 Ancora una volta Giorgio Broglia Che va a canestro Schiacciando con un'azione velocissima Stato commesso un fallo da Ruggero E ci sarà dunque una rimessa per il Sant'Arcangelo Ebedezzi a batterla Con Cardillo che lo marca Italiano Silimbiani Silimbiani che va a canestro E schiaccia Sono due punti per il Sant'Arcangelo Più un tiro libero supplementare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.